amici di futuro giallo blu ciao ben trovati un nuovo appuntamento con il format che vi porta alla scoperta dei giovani canarini in apertura hashtag canarini si cresce mi raccomando ormai ci accompagna questo modo di dire da due stagioni e noi invece vi accompagniamo alla scoperta di un altro ragazzo del settore giovanile sempre under 17 un figlio d'arte samuele domizzi il cognome naturalmente vi riporta a maurizio grande giocatore ex giocatore sia del modena di udinese napoli insomma la carriera si presenta da sola il ragazzo samuele gioca nell'anno 17 di troiano gioca nel settore giovanile del modena da qualche stagione allora non perdiamo altro tempo andiamo subito a conoscerlo chi è il giocatore 6 e come nasce in te la passione diciamo che la passione mi è sempre stata trasmessa fin da piccolo da mio padre perché comunque vedendolo ogni giorno impegnato in quello che faceva il suo lavoro vero il calcio ma sempre diciamo oltre che curiosità ha portato tanti sentimenti da parte di questo sport che ho sempre voluto intraprendere una carriera da calciatore come calciatore le mie caratteristiche diciamo non sono tanto quelle atletiche perché non mi vedo un giocatore molto rapido o veloce comunque trattato di grande fisicità però penso di essere abbastanza bravino tecnicamente e di cavarmela anche a livello di pensiero di testa di essere abbastanza rapido a ragionare di giocare semplice in mezzo al campo la prima cosa che ti viene in mente che ti ha detto tuo papà primo ricordo che hai del suo primo consiglio ma mio padre ha sempre cercato di darmi pochi consigli diciamo che riguardano quello che dovessi fare in campo ma sempre cercato di dire di giocare semplice come mi sentivo io diciamo non mi ha mai cercato di forzare diciamo da questo punto di vista mi ha sempre dato altri consigli che riguardano comunque il calcio però al di fuori del campo come comportarmi in alcune situazioni e in spogliatoio altre cose però diciamo che dentro al campo mi ha sempre lasciato abbastanza libero non ho mai forzato con alcuni consigli te lo ricordi tuo papà da calciatore sì sì certo me lo ricordo mi ricordo molto meglio diciamo gli anni a udine che comunque è stato molti anni circa otto anni è stato udine e anche gli ultimi due tre anni a venezia che sono stati molto belli perché comunque lui era verso fine carriera quell'anno e comunque hanno avuto la promozione dalla c alla b che mio padre aveva già vinto la b però lo c non l'aveva ancora mai vita quindi diciamo era anche un nuovo trofeo per lui e mister troiano mister troiano l'ho conosciuto quest'anno oltre che al di fuori del campo mi sembra una bravissima persona perché comunque ci aiuta sempre sia dal punto di vista calcistico che umano si comporta sempre in modo corretto con noi cerca sempre di darci consigli e anche come allenatore comunque un gran allenatore perché ci sta facendo crescere molto singolarmente non solo di squadra per tuo papà modena ha rappresentato diciamo l'inizio della carriera per te modena invece che cos'è questo è il mio sesto anno qua modena quindi ormai c'è fa parte di me e sono venuto qua che il modena era appena fallito quindi ho visto diciamo tutti la fase di rinascita del modena e mi sono sempre trovato molto bene sia con tutte le annate che con la società non c'è mai stato nessun problema anche con la città ho fatto diverse conoscenze quindi modena c'è per me molto importante so che indossi spesso la fascia di capitano no e quello invece che tipo di sensazione ti ti suscita no è una bella sensazione soprattutto perché diciamo essendo qua da set da sei sette anni indossare la fascia da capitano per me vuol dire molto perché comunque è stato uno dei primi che da sette anni qua mi sento molto onorato ogni volta che indosso la fascia che cosa ruberesti del tuo papà calciatore la mentalità che ha avuto negli anni perché comunque sempre stato attento al suo lavoro è sempre stato un professionista penso che non abbia mai diciamo oltrepassato il limite su alcune cose quindi spero che se mai dovessi intraprendere questa carriera da calciatore possa prendere esempio da lui da questo punto di vista immagino che visto anche un po la storia di casa il tuo sogno sia arrivare provare ad arrivare nei professionisti o comunque andare più in alto possibile certo certo spero e mi auguro un giorno magari anche di esordire qua a modena perché comunque mai per me questa città vale molto sia per me che per la mia famiglia ho diversi parenti qua a modena da diversi anni quindi per me varrebbe molto anche esordire in prima squadra qui e comunque sì in generale spero un giorno di diciamo fare il mio esordio ai grandi abbiamo conosciuto samuele domizzi adesso nella seconda parte di questa puntata di futuro giallo blu andiamo alla scoperta invece delle ragazze del settore femminile del settore giovanile femminile perché la metà stagione è sempre uno dei primi momenti per tirare le prime somme del nuovo percorso allora andiamo al campo baroni della villa d'oro quartier generale da quest'anno del settore femminile per capire com'è andata questa prima parte di stagione prima parte di stagione com'è andata siamo a febbraio quindi primi cinque sei mesi se ne sono andati siamo molto soddisfatti siamo molto soddisfatti sono arrivato quest'anno abbiamo iniziato un piccolo progetto sul settore giovanile appunto per cercare di crescere e di raggiungere risultati importanti sempre tenendo in considerazione la cosa più importante che l'educazione e la crescita personale di queste ragazze abbiamo a livello di tutte le categorie squadre molto competitive che ci danno ottimi risultati sia sul piano del gioco che sul piano comportamentale contiamo ad oggi in una novantina circa di tesserate dall'under 17 all'under 9 quindi riguardante il settore giovanile che è un buonissimo numero contando che comunque in under 15 quest'anno abbiamo deciso di fare una piccola scrematura per poter avere una squadra competitiva tant'è che adesso alle fasi finali nazionali abbiamo un under 17 che quest'anno rispetto all'anno scorso è più competitiva e bazzica tra le prime posizioni e le più piccoline si stanno facendo rispettare siamo anche addirittura in finale del ballerini con le piccoline con l'under 9 e quindi siamo molto soddisfatti primo anno che le nel femminile ti dirò che sono molto meravigliato perché non ci credevo molto all'inizio però ti dirò che mi stanno dando grande soddisfazioni poi le ragazze molto brave perché apprendono subito il mio pensiero di continuare sul calcio femminile cosa che magari prima magari non pensavo adesso magari è una mia priorità continuare col calcio femminile ma è allenare le bambine per me molto stimolante perché comunque anche loro hanno molto da insegnare a noi sono molto vivaci molto vivaci però comunque è una caratteristica che possiamo sfruttare a nostro favore perché sono super vogliose di imparare e sempre pronte a sfide nuove diciamo perché ti piace il calcio qual è la cosa più bella di questo sport secondo te perché insegna molte cose che prima non sapevo fare o non sapevo proprio di psicologia piace perché comunque ho visto altri giocatori molto forti e volevo anche provare questa esperienza e vedo che sta andando bene è cominciato a piacere perché in terza c'erano sempre i maschi che giocavano a calcio allora poi io ho voluto provare e mi è piaciuto e ho chiesto ai miei genitori di iscrivermi senti qual è il tuo ruolo in campo? io non ho proprio un ruolo perché in realtà sto sia che delle fasce destre sia che attaccanti io faccio sia che gol sia che assist quindi sono a posto sono tre punti d'oro quelli conquistati dai ragazzi di Mandelli a Lecco e valgono la fuga in vetta complice alla sconfitta della Pergoletese e Canarini viaggiano ora più sei sulla nuova inseguitrice la Pro Sesto primo tempo molto chiuso a merito dei padroni di casa bravi in fase difensiva chiudere gli attacchi del Modena che si rende pericoloso solo con Casani autore di un colpo di testa che costringe il portiere Lombardo al miracolo nella ripresa i gialli aumentano progressivamente i giri del motore fino alla chance del possibile vantaggio al ventesimo calcio di rigore sul dischetto si presenta Brasili il portiere pare sulla rispinta arriva Moratti ma l'estremo difensore è ancora prodigioso serve attendere il trentaduesimo per vedere cadere il muro di casa il neo entrato Taha vince un rimpallo si presenta in aria in sac con un tocco sotto di esterno destro per lo 0-1 ed esulta miglior attacco 39 reti e miglior difesa 15 subite dopo 18 giornate sabato 17 febbraio alle 14.30 a Savignano arriva proprio la Pro Sesto e sa di match ball per allungare ancora di più la fuga in vetta in chiusura anche i gol dei due pareggi di Under 16 e Under 15 nelle due gare con il Genoa 3-3 per l'Under 16 di Martinelli doppio vantaggio a firma Viaffe nel primo tempo poi la rimonta nella ripresa dei Rosso Blu fino al 3-2 poi il pari finale di Cagliazzo grande prova anche per l'Under 15 di Fontanesi la Genoa passa su punizione nel primo tempo la reazione dei Canarini arriva con Obasugi che allarga il gioco per l'Andulfo abile a segnare con un mancino sul primo palo sembrano le scale del Teatro Ariston visto che siamo in periodo in realtà sono le scale dello Stadio Braglia dalle quali vi salutiamo e vi diamo appuntamento a martedì prossimo sempre alle ore 19.10 e sempre su TRC Grazie a tutti